postazione conquistate l'obiettivo postazione individuata i nemici hanno la postazione postazione sotto controllo stiamo prevalendo abbiamo perso la postazione la postazione è al sicuro per la postazione contesa postazione individuata postazione sotto controllo la postazione è coltesa abbiamo perso la postazione postazione sotto controllo la postazione è contesa postazione identificata i nemici hanno la postazione 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 sotto controllo. Postazione contesa. Abbiamo perso la postazione. Postazione sotto controllo. Postazione individuata. I nemici hanno conquistato la postazione. Non siamo più in vantaggio. La postazione è al sicuro. La postazione è contesa. Postazione sotto controllo. Postazione persa. Postazione identificata. I nemici hanno la postazione. Postazione identificata. I nemici hanno la postazione. Integro. Entegro. Postazioneютa. Non ci tenete a essere pagati, allora forza! 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 Non ci tenete a essere pagati! Non ci tenete a essere pagati! Non ci tenete a essere pagati, allora forza! Non ci tenete a essere pagati! 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 Non ci tenete a essere pagati!